Sono tutti dell'Alta Padovana i comuni che riciclano di più i loro rifiuti. La ricerca di legambiente premia chi differenzia molto e produce poco rifiuto indifferenziato. Il migliore è di Granlunga Campodoro, che manda a smaltire solo 62 kg di secco a testa, quando il limite, per essere virtuosi, è 75. Bene anche Santa Giustina in Colle, Vigo d'Arzere, Cadonega e Loreggia. Chi invece differenzia di più è sempre nell'Alta, Piombino con l'89,8%, ma anche Tombolo, Gran Torto, Cadonega e San Pietro in Gu. Nella parte bassa della classifica invece, guardando sempre i comuni dell'Alta Padovana, troviamo Campo San Piero insieme al capoluogo Padova e realtà della bassa, come Sant'Urbano, Montagnana e Conselve. Come tendenza i comuni più virtuosi sono anche i più piccoli, sotto ai 5.000 abitanti. Quasi tutti, comunque, migliorano le loro prestazioni e in più c'è molta attenzione anche a trasformare i rifiuti in energia, la vera frontiera del futuro.